Musica Pantiloni, Cereni, Fuglione, Riccelli, Pedrini, Lugetti, Lugetti, Giscardi, Duccarello, Bonacina Per niente, sono 11 o 11 Ripasso i negativi, perché me l'ha detto no, vediamo un po' Bellini Bellini Riparto dall'ultimo, Giscardi, mi ha detto di no, adesso alternato Bellini 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 In pratica c'è Bonatti, no Bonatti ha detto no Bravi, no Ma è piccolino, è che c'è? Sì Oppure, oppure ha detto nico sempre Bellini 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 Sì, è bellissimo. Sta spostando i tavoli. Tutto tanto lo portava di seta nera, era la sua sola grandezza e da ultimo era anche arrivato a mettere il cappello di stelto. Sì, è il cappello di camera. Ecco il più bigolo della classe. Radio Popola. Aspetta la pancetta. Ecco perché stavo dicendo, dove finisce la teoria non assimilata, voi subito cominciate a produrre. E ora andiamo. Cosa c'è? C'è. E quindi abbiamo x del u più u del x più uguale a che cosa? Ebbene, x uguale più uguale su x su y, d'accordo? Allora, beh, utilizzo il cambiamento di variante. Quindi, x uguale più, che cosa? Beh, più y uguale. Cioè, ecco perché non sto sempre lì a fare la sostituzione. Chissà, ebbene, u quadro x quadro, giusto? E quindi ora, u quadro x quadro. Poi pratica che cosa? Prat x per y, e cioè? E cioè, x per u per x. E quindi? x quadro u. Se lo d'accordo? E quindi? Index. E adesso cosa faccio? Ebbene, guardate un po'. Io qui posso... Adesso qui, cosa faccio? La la lasciamo qui, ma è facile adesso capire. No, la lasciamo anche qui perché, in effetti, qua ci vogliono qualche minuto, non è ancora risolto. Cosa faccio? Metter l'oro. Cosa faccio? D'accordo, x quadro, quindi avrò 1 più x quadro, x quadro, x quadro, no? Lì significa che però, e quindi avrò che cosa? Avrò evidentemente una forma di bruciore. La dipendola qui, avrò 1 più 4 su i dx. Beh, qui avrò u dx che passano dall'altra parte, e quindi avrò meno, se volete, u dx più questa. E qui avrò x in d, non vi sembra che sia una equazione a variabili separati, perché c'ho x, d, u, e poi c'ho, se racconto il dx, non ho altro che meno u più 1, se più 4 su i dx. Noi la lasciamo così, perché la riporteremo, la correremo, la prossima. Più, a cracker, si riporteremo, la correremo, la correremo, la correremo, la correremo. Oh, e poi che insomma così,乌 fu, che diventerà comeourne, la correremo, la correremo, la correremo, la correremo. Mitazo, yoga, Heat, vi encounter, il darle timo, vegli, veloinalsche. Dopo che ci sono un'ultima classe, eccola, psychiciani, eccola, innovazione, limitazioni, eccola, uscita, Warum? Ma ho fatto 3, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 0.50. Iscriviti per ilεςellinario, 이러i molte, 5, 0,50. 1, kg di 1, 2, 3, 5, 0,50. Grazie. Lui realizza la festa, quando è già venuto, l'hai escluso, eh ricordo eh? Ecco, ok, io vado su un po'. Che barata è? Sento. Senti che me ti sei bizzarro. Ma perché mi potrò male? Io ti ho segnato in sotto, vedi? Ma che tipo male? E' un po' da. Tu non vedi quello che hai segnato in stia che ti sto facendo gestaci da mezz'ora? Sì, lo vedo. Adesso io sto slacciando anche l'alasco. Senti, io sto facendo un primo piano da Strabico. Guarda, 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 non ti sto tracciando invece Strabico. Aspetta. Rottoli, fai solo la tua espressione più intelligente, quella di prima in definitiva. Ecco, certo. Il primo piano parte è giusto ma che hai consigliato un rispetto? Ho un momento, dai. E questo è un piatto che diventano tutti un transistone. E tanto le mie lamè. Diìììì. Le cose. Le mie lamè. e questo è l'account sapete che sono ripartabili il valore massimo non è che se no qui no però dove questo valore sarebbe questo e al cui se io ragiono qui devo dire che è una massima simpatia impressione se lo ragiono qui io credo che è una massima che è la parte cilindrica che è il piolo si chiama piolo cioè quella che esce a farlo rispetto a semi di cui è montato stabile però dopo vorrei dire ancora una cosa simile alla precedente solo che è un accoppiamento tra cui siamo visti noi qui abbiamo dei denti uno entra nel mano dell'altra o qui c'è verso sicuramente esattamente da qui no? oh ma è giusto ma è giusto ma è giusto ma guarda io a parte esterna come fa solo a rendere in sanità si deve andare a scintare no? 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 non è giusto no? Vieni qua, vieni qua vicino, vieni qua qua Vieni qua, vieni 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 qua 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 Vieni qua, vieni qua 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 I rumetti, la mascotte e la classe. Vai il mascotte. Bambino della classe. Vai via, non lo fai. Vai, ma il mascotte. E che bambino. Dai il mascotte. Hai quattro anni che sono. Diciamo qui, il primo. Questa vuol dire. Qui pegnato. Rige i fatti un quarto alle quattro ore. Professore, Pedrini Che va l'ingradimento, ti vado le cellule della faccia Che va l'ingradimento, ti vado le cellule della faccia Vediamo Albani che sta pisciando sulla macchina di Marcassoli Dopodiché verrà il mio turno e gli è sputato pure sul telegi, con l'unotto Adesso non si vede una sega, non si vede Adesso è il mio turno Io te l'ho schiacciato No, sta andando Adesso è il mio turno di pisciare sul vetro della macchina di Marcassoli Uno, due, tre Sentite la cascata che piove sulla macchina di Marcassoli La tarda è bella pulita Ma se si arriva da dietro Oh, sentite un cazzo? Si vede così? Si vede tutto bianco Ma almeno si sente quello che mi han detto Si sente E' certo, l'audio è Perché prima il tuo era buio Ma c'era l'agrici e c'era Si sentiva l'audio di quello che stavamo facendo Per quello che io descrivo Per quello che stavo facendo Perché se non si vede Perché se non si vede Che stai facendo Ma perché potete scarse il mio? Che bellina Eccoci ai rughetti Diamo ascoltare la classe Sì 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 I'wari Sì 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 Te Sì Per tradizione un anno dopo pisciamo di nuovo sulle macchine di bacassoni. Pronti? Aspetta. Non manchi aspetta. Dai Cristiano non mi piace. Ma mi piace. Tu pisci sul cofro davanti. Io poi sono a pietchiera. Ma non mi interessa. Dai dai dai. Non pazzere. E ora la macchina di marcasoli diventerà ancora linga e pulita. Dopo un anno l'abbiamo lavata ancora noi. Io non ci so noi che stessi siamo. Vecchia battracca. Noi. 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 Lettta there are. Noi. Non mi sente hanno visto noutica. Soprattutto. Si. Lui è anche quella in classe Rek, stiamo registrando, vai dai! Adesso! 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 Adesso!